buongiorno ragazzi se anche voi volete rimanere sempre aggiornati sui video dei bancomatti iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video inoltre i bancomatti hanno aperto anche un canale telegram basterà scaricare la app e digitare bancomatti nel cerca troverete il nostro canale mi raccomando iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati sulle nostre bombe di mercato amazon grazie e buona visione ciao amici buongiorno e bentornati sul canale dei bancomatti sono micchi e vi do il benvenuto allora oggi volevo parlarvi di un bel 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 concorsino davvero ho visto molte vincite quindi vi dico il concorso attivo funzionante e soprattutto ci sono dei bei 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 premi il meglio che si può cercare in giro ora allora andiamo sul portale del nostro amico francesco sconto maggio vi ho aperto già l'articolo ve lo linkerò qua sotto praticamente il concorso si chiama riscrivi la colazione con nesquik vinci kit colazione e frigo lavagna smeg dire kit colazione è poco perché davvero qua c'è bella roba allora parliamo di questo concorsino è partito da poco come possiamo leggere con nesquik puoi vincere ogni giorno un kit colazione che è 4 scrittazze adesso vi spiego bene un tostapane smeg che è un premio comunque di molto valore e molto bello e ogni settimana si può vincere un frigo lavagna smeg io è la prima volta che vedo un prodotto del genere in un concorso ovvero il frigo lavagna perché il frigo si l'abbiamo già visto col cioccolato con lidl ma il frigo lavagna veramente la prima volta allora vediamo cosa dobbiamo fare per partecipare deve acquistare non qualsiasi punto vendita che emetta scontrino parlante quindi è bello che lo possiamo fare tutti quanti di tutta Italia ovvero che sia possibile leggere almeno parzialmente il nome del prodotto comprato solito meccanismo degli scontrini parlanti non lo di nuovo dovete comprare uno qualsiasi dei seguenti prodotti che sono nesquik optistart 500 grammi 1 kg e 600 grammi poi nesquik extra ciocco 390 grammi nesquik 300 grammi meno zucchero nesquik 30% meno zucchero 350 grammi e nesquik pronto da bere 3 per 180 ml poi come cita il regolamento bisogna collegarsi alla pagina del concorso che trovate sempre tutto qua sotto in qualche parola sotto al video trovate articolo che stiamo leggendo insieme link del concorso e se volete tanti altri commenti su domande che vi vengono in mente e noi vi risponderemo poi il bello che è un instant win quindi si sa subito se si ha vinto come vediamo cita precisamente un kit colazione del valore di 161 euro le famose scrittasse su cui scrivere cancellare e riscrivere i tuoi messaggi è bello anche se non so tra marito moglie fidanzato fidanzata lasciare dei messaggi filminatori sulla tazza bellissimo poi un tostapane smegli in acciaio verniciato con base cromata lucida e questo si vince tutti i giorni tutti i giorni si può vincere un kit in più come dicevamo prima il frigo classe energetica classe a con triplo più estetica anni 50 223 litri più 26 litri penso che sia il congelatore poi il monoporta ventilato classe tripla questo purtroppo purtroppo per fortuna uno a settimana poi il concorso il bello che termina il 20 maggio 2019 poi per qualsiasi altra domanda sul concorso scrivete sotto noi o sulla pagina facebook creeremo un post più grande o se no proprio qui sotto nei commenti apriamo insieme questa è la grafica il frigo è veramente 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 bello a parte le tazze molto simpatiche e il tostapane smeg che è una cosa assurda ok questo in poche parole è un piccolo riepilogo poi con la chiamata si sa subito sia vinto allora in più una cosa finale di questo concorso è che c'è anche un'estrazione finale come potete vedere qua sotto il 20 giugno 2019 per tutte le persone che non hanno vinto possono essere magari ripescate per un premio questo lo vedremo più avanti se qualcuno viene ripescato allora con questo piccolo concorsino molto economico e soprattutto con prodotti che penso ci capitano in ogni casa vi lancio un cash per le bancomatti un saluto da micchi da fuzger e dalla banca famiglia ci vediamo domani ore 7 e mezza con un nuovo video ciao e grazie per essere stati con noi mi raccomando il pollicino e grazie per essere arrivato in fondo a questo video se clicchi sul pulsante qua di fianco attivi l'iscrizione e clicchi sulla campanella noi bancomatti saremo sempre felici di avvisarti su un nuovo episodio una nuova promo o un'altra modalità per risparmiare rimani con noi ciao ciao